E adesso parliamo di una scuola di architettura per bambini. Riparte Sou a Taranto, Open Day al centro San Gaetano, proprio questo sabato, sabato 26 ottobre, dalle 10 alle 12 e 30. La scuola è gratuita e si rivolge ai bambini tra i 7 e i 12 anni di Taranto e provincia. Ne voglio parlare insieme a Valeria Cifarelli, architetto e tutor della scuola di architettura per bambini. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie mille. Questo è un bel progetto, proseguono le attività dell'isola che accoglie, questo progetto con capofila Simbolum ETS e con il sostegno di fondazioni con il Sud. Ci vuoi parlare intanto di questi laboratori, di questi progetti e poi di quello che accadrà sabato? Allora, la scuola di architettura per bambini è all'interno di questo progetto di Isola che accoglie. Siamo alla seconda edizione, l'anno scorso è stata la prima, ha avuto un ottimo successo e erano disponibili 30 posti e sono andati letteralmente a ruba. Fondamentalmente ripeteremo quest'anno lo stesso tipologia di incontri che avverranno due volte al mese il sabato mattina in cui avremo, oltre al nostro team di tutor, siamo sei compreso il nostro direttore Saverio Massaro anche spesso ospiti da fuori, esperti di fotografia, arte, cucina tutto ciò che può interessare e sviluppare la fantasia dei bambini. Crediamo sia importante e assolutamente impensabile non pensare a una città a misura di bambino e quale migliore, voglio dire, bacino di utenza se non quello proprio dei bambini stessi. Il tema di quest'anno è Culture of Peace, un tema direi molto molto attuale e importante e siamo anche molto curiosi di capire come questo percorso che durerà fino ad aprile 2025 ci verrà, diciamo, fatto anche insieme ai bambini, sono loro i veri protagonisti. Ma è possibile ancora iscriversi a scuola? Certo, certo. Allora ci si può iscrivere dal sito internet attraverso un form online e domani assolutamente durante l'open day in cui ci presenteremo noi a chi non ci conosce presenteremo un po' quale sarà il programma di quest'anno come abbiamo pensato di strutturarlo e sarà possibile iscriversi di persona domani mattina e risponderemo a tutte le domande e i dubbi che i genitori potranno, diciamo, avere. Certo, anche perché magari, detta così, scuola per architettura di bambini sembra una roba, dici, no, ma mio figlio, no, invece questa, diciamolo, no? No, ma l'architettura è, come dire, l'arte massima è l'espressione, diciamo, di tutte le arti messe insieme e noi crediamo che, diciamo, l'educazione al bello inteso proprio come bello a 360 gradi non soltanto da un punto di vista estetico ma umano, etico sia fondamentale soprattutto in quell'età quindi evviva la scuola di architettura per bambini che è un progetto che è nato in Sicilia Ci sono, dicevo, Valeria, ci sono tante cose belle, no, all'interno e l'obiettivo, oltre a quello, ovviamente, di formare questi bambini ma anche trasmettere fiducia nelle loro capacità creative assolutamente promuovere anche valori, parlavamo prima, no, del no peace e quindi la tolleranza, la solidarietà, l'accoglienza, la generosità, l'impegno sociale quindi questo proprio per dire frequentiamo una scuola in cui l'obiettivo massimo è anche quello del miglioramento complessivo di tutti quanti per il benessere di tutti diciamo, l'obiettivo massimo è quello di essere dei migliori cittadini di domani e c'è altro che vuoi dirci in occasione di questo Open Day di sabato, Valeria? allora, che vi aspettiamo che questa scuola è un progetto che ha bisogno di sostegno nel senso, in tutti i sensi quindi ci aspettiamo tanta che arrivino tante persone domani e niente, che seguiteci sui canali social su Taranto per scoprire un po' quali sono i prossimi passi è possibile venirvi a trovare sabato per l'Open Day? è possibile? sì, deve è obbligatorio sì, sì, sì assolutamente dalle 10 alle 12 saremo al centro San Gaetano e appunto siamo lì disponibili a rispondere a tutte le domande incontrare i genitori e anche un po' divertirci con i bambini ci saranno le ragazze di Ammostro faccio uno spoiler della serigrafia anche loro partner del progetto Isola che accoglie e faremo un taccuino della scuola di architettura insieme ai bambini quindi ci sarà anche questa piccola attività non volevo troppo spoilerare ma l'ho fatto ci saranno delle sorprese però questa è una roba bellissima perché sicuramente sì, sì, sì sarete felici voi ma soprattutto saranno felici i bambini che parteciperanno e sono convinta che lo saranno anche le famiglie grazie, grazie Valeria Cifarelli buon lavoro grazie mille a voi grazie prestata mia ospite vi aspettiamo domani a presto, a presto buon lavoro e buona giornata ciao